Elisa Foglia, le elezioni amministrative a Martinsicuro sempre più vicine, come si sta muovendo il Partito Democratico? Sì, il Partito Democratico sta lavorando ormai da mesi ad un progetto che vuole riunire un po' tutto il centro-sinistra. Quindi ci siamo attivati con tutta una serie di incontri per cercare di trovare un po' il progetto da presentare alla città che aveva e che ha come elemento principale quei valori del centro-sinistra che noi come partito abbiamo sempre cercato di esprimere anche nelle azioni e nelle attività che nel corso degli ultimi anni sono state fatte a livello consigliare. E quindi il lavoro sul progetto politico da presentare è stato intenso. Ci sono delle linee segnate appunto da quelli che sono anche gli aspetti trattati a livello amministrativo e che noi abbiamo più volte sollecitato, quindi sul piano spiaggia, su alcune attività legate al lavoro, al sociale. Quindi ci sono alcuni aspetti sui quali già noi abbiamo lavorato, che proporremo alla città. Ma certamente con le altre forze si sta verificando la possibilità di allargare questo tipo di progetto e di trovare anche altre soluzioni su altre problematiche che interessano il nostro paese e il nostro territorio. Nell'ambito del centro-sinistra ci saranno degli incontri? Sono previste proprio convergenze da questo punto di vista? Sì, noi abbiamo incontrato diverse forze. C'è la forza di sinistra per Martinsicuro, con la quale già ci siamo incontrati diverse volte, che riunisce un gruppo di persone che appunto si ritrovano nei valori del centro-sinistra. Stiamo lavorando insieme per cercare di trovare un po' la quadra a questo progetto.